È possibile viaggiare nel tempo? Questa domanda ci accompagna dagli albori della storia culturale e umana e parlo proprio delle prime forme di letteratura fantastica come l'epopea di Gilgamesh in cui alcune delle idee che oggi fanno parte del nostro immaginario del viaggio nel tempo canonico erano già presenti fino ad Avengers Endgame, tutti i recenti film e la recente letteratura sui viaggi nel tempo Ebbene, per fortuna oggi abbiamo un po' più strumenti per rispondere a questa domanda e quando parlo dei nostri strumenti mi riferisco specificatamente alla nostra teoria dello spazio-tempo la cosiddetta relatività generale di Einstein Ne avrete certamente sentito parlare Ecco, la relatività generale ci fornisce delle armi per affrontare la questione e quindi lo facciamo dopo la sigla Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati Io sono sempre Davide e sono qui per parlare di viaggi nel tempo quella roba misteriosa con cui abbiamo che fare nella letteratura di fantascienza e su cui speculiamo, magari distesi su un prato chiedendoci ma va, è possibile trovare un modo per saltare questi millenni terribili e arrivare all'umanità idilliache dell'utopia del 10.000 o tornare indietro per correre al fianco di Dave Locerato prima che questi ci sbranino irremediabilmente in un gazabuglio di piume perché erano piumati quei cosi, lo sapete? I viaggi nel tempo sono un'idea straordinaria un'idea che ci stuzzica molto la curiosità e per affrontare la domanda attorno alla fattibilità tecnica e logica dei viaggi nel tempo dobbiamo partire da cosa sia lo spazio-tempo ovvero dalla relatività generale di Einstein quindi farò un breve recap della relatività generale per poi passare ai viaggi nel tempo partiamo dall'inizio la relatività generale ci insegna che lo spazio-tempo è un campo è un oggetto dinamico che interagisce con gli altri oggetti della fisica la relatività generale è proprio quella cosa che ci ha insegnato che lo spazio-tempo non è uno sfondo non è uno sfondo dove tutto il resto della fisica avviene come un teatro con degli attori che ci camminano sopra ma è un attore a sua volta è vero, gli attori stanno sopra di lui ma anche lui recita, anche lui interagisce quindi possiamo immaginarci l'universo come una compagnia teatrale dove tutti gli attori come il campo elettromagnetico i gluoni, il campo di Higgs e tutta questa roba qua stanno sulla pancia di un altro attore che recita a sua volta monologhi estruggenti lo spazio-tempo oppure il campo gravitazionale che dir si voglia se volete approfondire il tema della relatività generale delle sue implicazioni da un punto di vista microscopico vi consiglio la serie Road to Quantum Gravity linkata in descrizione sono tanti episodi in cui affrontiamo io e Daniele Oriti ricercatore esperto in gravità quantistica proprio il tema della gravità e dello spazio-tempo a livello microscopico ma ora torniamo a noi la relatività generale è propriamente definita dalle cosiddette equazioni di campo di Einstein che ci spiegano come lo spazio-tempo reagisca alla presenza di certe distribuzioni di energia e di materia quindi la forma dello spazio-tempo il campo gravitazionale quindi in qualche modo la forma dello spazio-tempo ovvero proprio quella cosa che ci dice come possiamo fare quali possano essere i risultati delle misure fatte con righelli e cronometri in un certo punto per intenderci cambia a seconda della presenza o meno di un certo tipo di materia o comunque a seconda del tipo di materia che noi ci buttiamo dentro quindi l'immagine dell'universo restituita dalla relatività generale è quello di una certa distribuzione di materia ed energia che fa sì che lo spazio-tempo assume una certa forma, vari la sua curvatura ed in un moto indotto dalla curvatura dello spazio-tempo ha questa materia quindi è quasi una descrizione circolare le equazioni infatti sono molto difficili da risolvere perché vanno risolte tutte in contemporanea perché se noi buttiamo una particella nello spazio-tempo questa curva lo spazio-tempo e questa curvatura dello spazio-tempo modifica il moto della particella ma allora la particella porta in giro la sua energia localizzata e la curvatura dello spazio-tempo la segue quindi cambia, quindi il moto della particella cambia e così via è un problema molto complicato, è un loop da risolvere ma lo sappiamo fare esistono delle soluzioni alle equazioni di campo di Einstein e possiamo riferirci a queste soluzioni a meno di alcune ipotesi teoriche come gli spazio-tempi possibili come in elettrodinamica noi abbiamo le equazioni di Maxwell e tutte le soluzioni delle equazioni di Maxwell sono configurazioni ammissibili del campo elettromagnetico, quindi onde elettromagnetiche, circuiti e condensatori ovviamente lì abbiamo bisogno anche del materiale ma come la corrente si muova in un circuito nota alla sorgente o tutta questa roba qua, il campo magnetico terrestre sono soluzioni delle equazioni di Maxwell quindi configurazioni accettabili, ammissibili, consistenti, coerenti del campo elettromagnetico lo stesso vale per la relatività generale noi abbiamo delle equazioni dentro cui buttiamo tutte le informazioni che abbiamo sulla distribuzione di materia ed energia nell'universo e le risolviamo per quanto ci riguarda oggi noi abbiamo le equazioni di campo di Einstein e tutte le soluzioni delle equazioni di campo di Einstein sono possibili forme dello spazio-tempo associate a certe distribuzioni di materia ed energia a certe condizioni al contorno del nostro problema quindi a rigor di logica non c'è ragione di scartare a priori una soluzione dell'equazione di Einstein perché se l'unica richiesta che facciamo è questa allora tutte le soluzioni possibili sono ok sono realistiche, sono in qualche modo realizzabili forse non realizzate come le soluzioni del campo elettromagnetico magari ti serve costruire un certo oggetto per generare una certa configurazione del campo elettromagnetico ma possibili, fattibili, tecnicamente realizzabili magari con una tecnologia però tecnicamente più avanzata ma tecnicamente realizzabili lo stesso in qualche modo vale per le soluzioni delle equazioni di Einstein magari il nostro universo è descritto da una certa soluzione sicuramente il nostro universo è descritto da una certa soluzione specifica ma in linea di principio potrebbe essere un'altra con una diversa distribuzione di materia ed energia spostando i pianeti, spostando la materia la forma dello spazio-tempo cambierebbe e verrebbe rappresentato da un'altra soluzione all'equazione di campo di Einstein quindi quando incontriamo una soluzione all'equazione di campo di Einstein in linea di principio un universo possibile ripeto, magari non realizzato ma possibile spostando i pianeti e la distribuzione di energia noi non la possiamo prendere alla leggera ebbene il vecchio Gödel nel 1949 se non sbaglio per il settantesimo cumpleanno di Einstein dovete sapere che i due erano molto amici all'Institute for Advanced Studies e parlavano molto ha tentato di rompere la relatività generale non entriamo nella questione legata al principio di Mach che era l'idea centrale di Gödel ma Gödel ha pubblicato in un'edizione speciale di Credo Reviews of Modern Physics dedicata ad Einstein con un sacco di lavori di altri scienziati che lo omaggiavano con dei lavori legati alla relatività delle pubblicazioni legate alla relatività generale perdonate la ripetizione dicevo Gödel ci ha buttato dentro un lavoro sui viaggi nel tempo in relatività generale in particolare ha dimostrato che se pigliamo l'universo lo riempiamo di materia distribuita omogeneamente quindi lo guardiamo da tanto 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 in là con uno zoom out enorme come delle divinità e quindi le stelle sono più o meno distribuite come un pulviscolo omogeneo e diamo a questa roba una rotazione globale Einstein si sarebbe aspettato l'assenza di qualunque effetto di questa rotazione globale invece un effetto c'è quindi la teoria non è propriamente macchiana in senso forte quindi esiste la possibilità di far muovere globalmente per questo è un discorso che se volete possiamo approfondire nei commenti chiedetemelo in caso però va oltre vi lascerò comunque le referenze alla mia tesi trenale il tema è discusso anche in modo interessante in The Large Scale Structure of Space Time di Stephen Hawking e Alice o nel libro Quantum Gravity di Rovelli dicevo Goethe ha dimostrato che un sifatto universo con costante cosmologica negativa ovvero una certa distribuzione negativa di energia ovunque ammette viaggi nel tempo e vi dico di più è possibile viaggiare nel tempo senza mai violare la relatività speciale quindi senza mai andare localmente più veloci della velocità della luce cioè se vivessimo nell'universo di Gödel poi vedremo se questa se debba esserci qualche altro meccanismo che bandisce una soluzione del genere noi potremmo prendere la nostra navicella e seguire un fissare un obiettivo quindi Parigi 1713 giovedì 18 ottobre magari non era un giovedì il 18 ottobre ma 18 ottobre di quell'anno alle 13.18 sotto la scrivania della casa di quello scrittore che stava bevendo dell'assenzio scrivendo delle poesie che nessuno avrebbe letto in calzini colorati uno solo l'altro piede scalzo infilato in una ciabatta ecco fissando un obiettivo noi potremmo partire con la nostra navicella seguire un determinato percorso nello spazio-tempo e raggiungere l'obiettivo senza mai superare la velocità della luce senza mai violare la regola fondamentale per cui un oggetto dotato di massa non può superare la velocità della luce non si tratterebbe di un percorso geodetico quindi non potremmo semplicemente lasciarci cadere e trascinare dal campo gravitazionale e raggiungere quel punto non ci sono geodetiche chiuse ma basterebbe spingere un po' quei reattori quindi fare un po' di forza quei reattori e potremmo raggiungere qualunque punto questo è stato dimostrato credo da Chandrasek ma non ne sono sicuro quindi non mi sbilancio ma potremmo spingere con dei reattori e raggiungere qualunque punto nello spazio e nel tempo questo è un problema significa che la relatività generale presa così com'è con una distribuzione di materia e energia non troppo peregrina ammette i viaggi nel tempo e la soluzione è molto facile la possiamo scrivere esplicitamente allora delle due luna o i viaggi nel tempo sono fattibili in linea teorica ed esclusi per caso per caso nel senso che il nostro universo è fatto in un certo modo la materia e l'energia è distribuito in un certo modo e quindi non possiamo viaggiare nel tempo ma se fosse distribuito in modo diverso potremmo farlo e questo è un conto quindi non c'è nessuna ragione profonda per bandire i viaggi nel tempo ma solo contingente legata alla specifica struttura distribuzione di materia nel nostro universo oppure c'è una ragione più profonda per cui i viaggi nel tempo e la soluzione di Gödel con loro non possano essere realizzati e gran parte della comunità oggi va verso la seconda opzione che può essere incapsulata incorporata nella cosiddetta chronology protection conjecture tra le altre vedo che nella telecamera viene ripresa questa meravigliosa maglietta di spazi attorcigliati la trovate nello store online ne approfitto anche per ricordarvi che iscrivendovi al canale mollando un commento anche discutendo queste cose e un mi piace queste cose qui potete aiutarmi a far crescere il canale a convincere l'intelligenza artificiale di youtube che vale la pena spingere questa roba qua quindi tornando alla chronology protection conjecture formulata per la prima volta da Stephen Hawking credo negli anni 80 o 90 non ne sono sicuro al 100% dovrei controllare ma vi lascio il paper qua sotto perché il modo in cui lo esprime è fantascientificamente meraviglioso nel senso che si dice che caspita sembra quasi che esista una chronology protection agency del tutto identica alla TVA di Loki se avete visto la serie sapete di cosa io stia parlando che banna elimina i viaggi nel tempo del nostro universo l'idea è la seguente noi abbiamo la relatività generale ma la relatività generale è una teoria classica macroscopica noi abbiamo questa teoria ma non abbiamo una versione microscopica della teoria ancora una volta ne parliamo in road to quantum gravity questa teoria microscopica da cui poi ci aspettiamo che la relatività generale emerga come teoria parziale che non tiene conto degli effetti microscopici quantistici degli atomi di spazio-tempo qualunque sia l'oggetto fondamentale se ne esiste uno che compone lo spazio-tempo questa teoria si chiama gravità quantistica e noi non siamo ancora in possesso di una teoria di gravità quantistica siamo passati dall'elettrodinamica classica di Maxwell all'elettrodinamica quantistica più ampia più grande di cui l'elettrodinamica classica di Maxwell è il limite classico l'abbiamo fatto con le nostre teorie degli atomi ma non l'abbiamo ancora fatto con la gravità non l'abbiamo ancora fatto con lo spazio-tempo dello spazio-tempo abbiamo solo una teoria classica non abbiamo ancora una teoria quantistica più profonda più vera in un certo senso nel senso che l'altra ne è solo un limite in certi regimi in cui gli effetti quantistici possono essere trascurati ora io stesso mi occupo della ricerca di una teoria di gravità quantistica in soldoni faccio stringhe per questa ragione qua e tendo ad essere molto agnostico ne abbiamo parlato in road to quantum gravity l'idea della chronology protection conjecture è che quando avremo una teoria di gravità quantistica e faremo un limite classico per prenderci la relatività generale non otterremo propriamente la relatività generale ma la relatività generale con alcuni vincoli ad esempio un ban sui viaggi nel tempo sulle soluzioni che presentano i viaggi nel tempo quindi l'idea è che sì ci sono delle soluzioni di relatività generale oggi come la soluzione di Gödel che permettono di viaggiare nel tempo ma la loro esistenza dipende dal fatto che la nostra teoria non sia una vera teoria microscopica della gravità ma solo una teoria effettiva quando avremo una teoria microscopica profonda scopriremo anche dei meccanismi che bandiscono i viaggi nel tempo anche nella teoria effettiva quindi avremo una relatività generale arricchita proprio partendo da una teoria microscopica dello spazio-tempo ovviamente una frase del genere è una congettura è per questo che si chiama chronology protection conjecture non è un teorema non è uno statement dopo tutto sarebbe un teorema uno statement su una teoria che non abbiamo però ci sono molte evidenze nel senso inglese di evidence che non sono prove ma come quella roba che porti in tribunale che ti fa dire ok non sono certo che tu sia un assassino ma ci sono molti indizi a favore della chronology protection conjecture esiste un'enorme quantità di ricercatori che lavorano sulla gravità quantistica e su aspetti della gravità quantistica raccogliendo indizi e prove parziali senza avere ancora una teoria completa ma un'idea su come si debba comportare in certi regimi per fortuna ce l'abbiamo non tutto il nostro lavoro è andato a vuoto e quindi c'è dell'evidenza vi porto solo un certo tipo di evidenza in olografia ne abbiamo scoperto e dire scoperto è molto delicato perché l'abbiamo dimostrato in modo rigoroso in alcuni regimi pseudo dimostrato in modo rigoroso in modo non rigoroso in altri e congettorato in altri quindi prendiamo questa cosa con le pinze ma ci aspettiamo una dualità olografica tra teorie di gauge in d dimensioni e teorie di gravità in d più 1 dimensioni quindi ci aspettiamo che una teoria di gravità in 4 dimensioni sia del tutto equivalente a una teoria di gauge teoria di gauge vuol dire una generica teoria di campo per quanto ci riguarda oggi gravità 4 dimensioni uguale teoria di campo senza gravità in 3 dimensioni quindi per descrivere uno spazio tempo in 4 dimensioni noi ci aspettiamo in alcuni regimi è provato non sempre a volte in modo un po' hand wavy a volte assolutamente no a volte in modo abbastanza rigoroso di poter lavorare con una teoria quantistica dei campi e che queste due robe siano del tutto equivalenti da un punto di vista matematico e che quindi sia una nostra scelta un nostro arbitrio lavorare in una o nell'altra e che a volte alcuni problemi che affrontiamo in gravità siano super difficili ma riscritti nel linguaggio in una teoria equivalente in una dimensione in meno una teoria di campo equivalente in una dimensione in meno diventino facili e viceversa in questo caso in letteratura ci sono diversi tentativi di prendere il problema dei viaggi nel tempo in relatività generale e riscriverlo sotto forma di un problema in una teoria di campo in una dimensione in meno quindi lavoriamo nel contesto della dualità olografica tutta quella roba che è nata da DSCFT un giorno ne parleremo più in dettaglio di basti quello che vi ho detto finora appunto la congetturata equivalenza tra gravità in D più 1 dimensioni e teorie di campo senza gravità in D dimensioni con certe caratteristiche i crismi e tutto il resto ecco ci sono tentanti tentativi dicevo di affrontare questo problema dall'altro punto di vista dal punto di vista delle teorie di campo e soprattutto in modelli specifici pare proprio che un viaggio nel tempo dal punto di vista della gravità venga riformulato in una violazione dell'unitarietà dal punto di vista della teoria di campo quindi tenendo conto degli effetti quantistici ci aspettiamo che un viaggio nel tempo in relatività generale almeno in questi modellini specifici almeno nel contesto dell'olografia almeno fatte alcune ipotesi di ragionevolezza corrisponda da un punto di vista olografico da un punto di vista poi la ragione per cui usiamo la parola olografia è che ci aspettiamo abbiamo una dimensione in meno quindi come un ologramma informazioni 2D che si trasformano in una roba 3D 2D la teoria di campo 3D la gravità restiamo coi piedi per terra dicevo si traduca un viaggio nel tempo da una parte si traduca in una violazione dell'unitarietà dall'altra quindi in un'inconsistenza della teoria una violazione dell'equazione di Schrödinger della meccanica quantistica per capirci dell'assunto fondamentale della teoria quantistica per cui ogni processo debba in un sistema chiuso conservare l'informazione questa è una roba che sappiamo di cui siamo sostanzialmente certi in meccanica quantistica ebbene viaggio nel tempo da una parte nella teoria del tutto equivalente questa roba corrisponde a una violazione dell'unitarietà quindi in un certo senso fare viaggi nel tempo prendere i pianeti del nostro universo e posizionarli in un modo che permetta con una certa costante cosmologica che non è quella del nostro universo ma questo è un altro dettaglio sono costanti fisiche non è fondamento della teoria anche se ci sarebbero discorsi interessanti da fare corrisponderebbe da un punto di vista della meccanica quantistica a una violazione delle ipotesi di base ed è proprio per un meccanismo di questo genere che noi ci aspettiamo che tenendo conto degli effetti quantistici e degli effetti microscopici della gravità anche a livello classico i viaggi nel tempo siano banditi quindi è possibile viaggiare nel tempo se trascuriamo gli effetti quantistici e prendiamo solo la relatività generale sì esistono soluzioni che permettono viaggi nel tempo ma se iniziamo a ragionare attorno al fatto che la relatività generale debba per forza essere una teoria un limite classico di una teoria quantistica c'è dell'evidenza ancora non vincolante a tanti tanti indizi che ci suggeriscono che quando avremo una teoria di gravità quantistica calerà il Van Hammer sui viaggi nel tempo e la roba non potrà viaggiare nel tempo quindi se dovessi fare una scommessa da qua a 30 anni no non è possibile viaggiare nel tempo e sono certo che ce lo dirà la gravità quantistica ma spero di sbagliarmi voi cosa ne pensate vi è chiaro il mio discorso vi è piaciuto questo video fatemelo sapere nei commenti e suggeritemi altri argomenti per i video delle settimane prossime sarò sempre qui a rispondervi è una promessa se volete aiutare il canale commentate mettete di piace condividete il video per convincere l'intelligenza artificiale di youtube che questa robaccia vale qualcosa e ricordatevi che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto crononauti